benvenuti a questo nuovo video nel quale andremo a smontare una lavastoviglie da incasso ad esempio perché dobbiamo aggiustarla o magari dobbiamo pulire il vano della lavastoviglie in cucina o addirittura la dobbiamo sostituire iscrivetevi al canale se non lo avete fatto e attivate la campanella delle notifiche innanzitutto prima di cominciare dobbiamo andare a staccare la corrente dopo dovremo andare a staccare il tubo dell'acqua dell'andata dell'acqua quindi chiudiamo il rubinetto se ne avete uno prima del tubo altrimenti dovrete staccare il contatore generale a questo punto andiamo a smontare il tubo abbiate cura di mettere un secchiello o un recipiente sotto all'attacco del tubo in modo tale che l'acqua non è piccata per terra e poi andiamo a staccare il tubo dello scarico dell'acqua e solitamente sotto al lavandino adesso andiamo a svitare le viti che tengono la lavastoviglie attaccata alla nostra cucina quindi dovremmo trovarle due ai lati e due nella parte superiore quindi in questo caso io quelle laterali già le ho tolte andiamo a togliere quelle della parte superiore che vanno attaccate al pianale della nostra cucina e andiamo a tirarla sia da sopra e sia da sotto senza forzare troppo per non rischiare di rovinare il pianale della cucina una volta tirata fuori potremmo accedere al vano della nostra cucina che prima conteneva la lavastoviglie quindi adesso potremo procedere alla sostituzione o alla manutenzione o alla pulizia del vano se il video è stato utile lasciate un like e iscrivetevi al canale grazie della visione al prossimo video grazie